ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video aspetta che camere mature che ci trovano subito così si è vero ecco ragazzi noi ci abbiamo fatto tipo una specie di video speciale riguardante questa cosa qui ma ora vogliamo farla un po' più decente noi abbiamo trovato dei modi perfetti per poterci nascondere dagli spiriti invasori dark souls 3 e ora andremo a nasconderci sperando anche che vengono evocati sul colpo aspetta che altro vuoi dire guanti oscuri eccoli qua no e si con il scudo del sole vado in giro si infatti vedi di cambiarlo scudo spinato fico quello di kirk oh c'hai la corazza di kirk in questo gioco? figo no non è figo perchè? è perchè l'hanno rubata al primo quindi non è più figo qui è tutto rubato al primo anche questi qua sono soldati che si trovano nel primo vabbè anche nel 2 no aspetta nel 2 no ecco ragazzi ora guardiamo dove ci nascondiamo sdraiati impossibile che cazzo ma va fan no 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 guardi di cazzo quanti ce ne sono qua? e tu prima che stavi anche polemicando che eh non ci sono i segni una volta ragazzi no una volta perchè sennò si mettono a perdere tempo tra di loro ah giusto qui invece sono da soli si annoiano e quindi fanno di tutto per cercarci oppure se ne vanno e si rompono le palle c'è l'ho dei server l'ho visto l'ho visto giù 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 ah giù lì ho visto qualcosa di rosso muoversi se stai fermo vedi lo vedi lo vedi no no si era dammi una levetta no ti morde il braccio dammi una levetta fai ragazzi qua cos'è? ah eccolo qua vabbè non importa eh fotiti oh mio dio no l'elmo da coglione è quella di xanthos di xanthos l'ho fatta molto meglio l'elmo di xanthos c'è anche nel 2 c'è anche nel 3 c'è anche nel 2 loro ragazzi sono qui ah no cosa cazzo sta facendo? questi qua li sono messi qua ragazzi perchè sanno che è un posto strategico che ovunque noi andiamo i mostri le sentinelle giù i non mortici cioè ci attaccano e quindi tirano la sua attenzione ah lui infatti sta pensando dove è andato quella puttana dove fare il cazzo cara veloce lì in fondo come con qua vai nasconditi nasconditi nulla ma donna mia spero spararglielo addosso a sto punto non ce la faccio perchè ero da qua spero una granata siamo fortunati non si accorgi neanche di che l'abbiamo sparata una granata no aspetta ho sbagliato niente niente sta dormendo ragazzi vediamo se si refà sta a pensare . noo ma c'è questo qua dai ma chi è? ma sono spiriti cioè ma è questo dark souls vediamo se si ref aspetta oh merda per me è tipo uno sguardo da it's raping time, che c'ha che ha visti? no guada camminare piano vuol dire una cosa sola c'ha visti dan da dan da da non è detto? nooo co porca troia nooo no 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 io non volevo farti del male non volevo farti del male no cazzo che satori cavolo è un ciccione dai non è neè calmato la terra del sole ah ci ha sparo una un sasso come sia ma che cosa? ma che buca voglia è questa qui degli spara sassi? è una più romanzia da un uomo no 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 ho fatto il sole la parte sbagliata ora ben cura da dire no 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 aspetta ecco ora se lo tolto il sole ma l'altro l'albera in carriva il lagga che anna b c'è cosa c'è questa gente qua noi perdiamo perchè laggano noi ci siamo convicti a averci davanti ci fanno mesi teletrasportano come goku ci fanno backstab domanda a qui 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 sa che siamo qui lo sai lei sa che siamo qui ma per me non sa che stai guarda 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 si muove scattando ci muove a piccoli teletrasporti tipo oh cazzo non può camminare se teletrasporti ok allora eh si però ci vedo lei sa che siamo qui no non ci vedono mi sembra tipo una specie di essere superiore voi camminate io metti teletrasporto ah no io cazzo spesso ti direi impazzissimi impazziti eh ora qua li vieni sul dubbio forse non sono qui ha una doppia uchi katana ma sai tu che laghi a bestia oppure lei scusa? non lo so l'altro non laggava cos'è a bestia no per me è proprio lei adesso picchia il muro ha distrutto tutti gli oggetti adesso si è fatta una specie di esame di coscienza dove potrebbero essere andati sti finocchi qua no i pali non ci si deve trasportare a pali mi piace molto il level design di quei mostriciattoli gli appesi perché fa paura c'è sono fatti bene come level design questi qua che nooo troppo presto e vabbè nooo nooo ti ha sgamato no non mi ha sgamato non mi ha sgamato tranquillo oh 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 no ma che bella che non date la voce femminile l'ho dal sole dai che è stata amichevole a chiamarci non si attacca una raga no io lo picchio le donne ma è l'armatura di avela che mi sta applaudendo cosa hai detto? allora mi sapevo si è armatura di avel ma sei stupido come fa quell'essere di avel l'ho detto se quello è di avel ha mangiato la merda stupro te pensa su d'axe se uno dice io non picchio una ragazza si fa uccidere no l'ha schivata va avanti a tenere trasporti è una mossa di Naruto questa quasi uh uh le stai facendo malissimo si ma è bello che io colpisco dopo subisce il danno quindi non so il lei colpita ancora oh uh ragazzi i Chris si fa picchiare da una ragazza qua è una roba da doversi dire oh se è una nerd cosa vuoi che ti dica potrebbe anche essere una ragazza eh vabbè potrebbe anche essere un maschio che ne sai chi si è messo una schinga donna poca troia è vero che sto facendo ammazzare da 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 potrebbe essere chiunque dire il vero potrebbe anche essere un non umano che non sai potrebbe anche essere da ammazzare dai se ti fa uccidere una ragazza ma poi chi si te le trasporta cazzo come faccio a saperlo scappa scappa e nasconditi scappa continua a colpire a casa prima o poi colpirei qualcosa prima o poi colpirò mi basta anche il muro ma basta che cosa lo colpisco l'unica roba che non laggano fanno le texture cazzo le stai facendo male gli spiriti scuri hanno meno estus di noi lo sai lo sai hanno metà estus quindi è prima o poi dovrà prima o poi dovrà finire se hai mati così e non fai cazzate come questa qui che hai appena fatto dovresti riuscire a vivere e no madonna è Naruto sto qua sparo un pugnale si ferma in aria tipo ma il lago è una mossa fatta apposta così ma come quella la che si ferma in aria no quella la è una mossa fatta apposta tipo con le doppie catane e le voglio anche io le doppie catane ma si va bene una cosa che non mi ha fatto tantissimo danno come pensi abbiamo i Chris che si fa picchiare delle ragazze bravissimi Chris ma hai presente dove mi hai colpito si lo ho presente e sei un maschio alfa proprio perchè ti sei vicino a picchiare ma tu l'hai ferita che io ho sentito ma io che cazzo ne so guarda come lagga si teletrasporta sta ferma scappa ma io vedo lei che mi colpisce scappa e nasconditi ok ma io vedo lei che mi colpisce ma io non gli faccio danno che sono davanti a lei scappa e nasconditi ma porca troverò l'ho colpita 20 minuti prima è il potere del lag e vabbè ma anch'io dovremmo extra barba se lagga se lo sto finendo ragazzi i Chris le sta prendendo hai quasi esaurito l'estus non so il cerco di confonderla in qualche modo cioè sparare fiaschi magari lei ti vede di ritardo ma che cazzo l'ho colpita ma dove ma dove si mi ha colpito ma io prima sbaglio pure avevo visto che il pugnalino arrivava da un'altra direzione ho pensato fosse un altro alfa man i cosi brava no dai ma ha fatto un urlo che ti pone meno lo stupro cioè eh no perché no quando muoiono quando il personaggio non muore fa sto verso qui ma davvero il tuo personaggio deve una sola fammi due risate quasi quasi no doveva riposarci perché lei mi ha imprese tantissime si va bene per te che slagava slagava bestia eh si porca porca bruttana giù 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 ho detto porca bruttana lo sai merda tantata i ceretti si vai così non ci ha visto non lo sa ma paura ha vestito così non lo sa ha il cappello da schiavo sta pensando mmm l'ho visto ma dove è andata dove potrebbero essere per me ha sentito buoni rumori ragazzi è andato via si è rotto le palle ragazzi questa cosa qui è l'evoluzione del nascondino paghi 70 euro per un nascondino simulator c'è tanto scusa avventura azione medioevo nascondino nascondino è tutto ragazzi però poi anche call of duty si è fermato vi ho detto io che loro stanno qui perché vedono se gente dico sa che siamo qua più o meno sa che ci nascondiamo in questa torre no no non lo sa non lo sa ha chiamato si e dunque aspetta lui sa che siamo qua in giro ma non sa bene dove siamo porca troia vieni a cercare ma mi sa che lui pensa mmm se lo chiamo così a caso pensare che l'ho visto quindi uscirà allo scoperto non è così eh volevi dove è andato mi ero messo a dire con papyrus lezzo le ho preso eh si le ho preso si la ghicchia anche questo qua un po' ragazzi eh ma qua sono tutti che lagga fa due passi rimanendo fermo dopo si teletrasporta due metri ritmica la cosa porca troia si è fermato qua ma il rima mannara ha pensato ci avesse ciavato oh cazzo holy shit fa paura santa merda ah no sto pensando ma sarà qui mi sa che non ci ha visti non ci ha no 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 vabbè dai ci siamo durati abbastanza siamo stati bravi però non scomoditi di da qualsiasi altra cosa no ma è stare qua sotto che ti fanno no ma guarda che io ero sotto la cosa ah ok quindi non ci prendeva ah poi c'è tutto ok dato il sole dovevo sembrare il sole anche se sono oscuro quindi fanculo vedi un duello vecchio ok abbiamo visto un po' come la garage no 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 aspetta hai visto l'avevo fatto un backstab io si non l'ha preso ti vuoi male se combatti con la lancia in ogni caso tenta di farmi un no no non ci siamo io no io mi rifiuto di crederci in due colpi l'ho ammazzato oh cazzo oh mio dio anche sto qua anche io mi ero vestito così una volta nell'uno quando giocavo con un mio amico che ci gioco tuttora nell'uno con un mio amico tipo come dire mi ero messa la corazza ninja perché è tanto leggera e lo scudo è uno scudo pesante è inutile ragazzi eh cioè ma tu mi dicevi che i romani temono armature leggere ma scudi grandi ma cazzo sto qua sta ma stramale sì cioè che è uno scudo spesso come come questo muretto qua che è vicino a noi sì è una relazione di storia che avevo detto in un video non mi ricordo che più o meno nel medio cioè più o meno i scudi e corazze funzionano così più la corazza è grande più è grossa e pesante più lo scudo è piccolo mentre più lo scudo è grande più la corazza si fa piccola infatti gli egiziani avevano scudi enormi non avevano corazze i romani più o meno avevano corazze leggeri che dai cotte in maglia gli erano cosette leggeri infatti c'erano anche loro gli scudi belli grossi nel medioevo vengono fuori le corazze da cavaliere bardati come mignotte e quindi lo scudo proprio scompare del tutto al massimo rimaneva un piccolo umbo da mettere sul polso il bucler sì tipo il bucler ecco anche più piccolo a volte mi sa che se non voglio è una cosa grande come il polso diciamo ma eh sì è tornato è tornato lezioni di storia con mistrelle guarda chi ci provoca anche lui sa che siamo qui eh che inizi a cercare oh porca eh sta cercando di dirci hai finito ma intanto noi qui abbiamo il telefono abbiamo l'aria condizionata no non è vero no se ce l'abbiamo ma la porta è chiusa cominci a cercare l'erba alta porca troia non troverai mai da un suo nascondiglio era andata meglio la volta scorsa perché nessuno ci sgamava proprio ci scavavano ma anche una volta ci sono visti in piedi e non ci hanno neanche scamato guarda pensa che roba mi sa che si sono scammati le informazioni è vero che si sanno tipo quello si va bene quello la fa che sta facendo che sta facendo magari penso che sono invisibili che si so ma che cosa sta fa ah lo sto con quello là che minchia sta facendo occhio occhio dandan 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 da ah no andò di là anche sto qua va anche sto oh merda anche sto qua va a tritrasporti si è fatto anche danno si viene qua donna mia grazie di dio non ci ha visto da qua perché pensa che non ci non ci vede da sdraiati ragazzi adesso vedete cosa di un bug ci colpisce oh cazzo lui non sa che è un metro da noi neanche ecco ora si siede oh mio dio gli fai un attacchi salto no no oh è perfetto un attacchi salto non trovi no 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 perché quando si siede di nuovo saltiamo giù con tutta la cazzutaggine che abbiamo col martello di smog che sta facendo stai pazzo ora è debole è disarmato è impazzito sto qua ma mi sa che non è che li ha tolti li ha messi da parte come dire eh si si però lo scudo non si vedrebbe dietro la schiena no no eh se non ha il pugno a due mani no ma che sta facendo l'inchino a chi visto che l'hai messo da parte ah ok no 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 qua 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 si rasenta il degrado sta combattendo contro il suo amico immaginario dove sta andando? sta facendo una prova di combattimento non dai mi fa pena posso andare alla combattere? quando sei sicuro di fai un attacco in salto che lo one shotta ti apposti qua sopra e gli fai un attacco in salto come faccio? eh ma non riesco a postarmi qua sopra non c'è i salti è sulla piattaforma in legno ah è la piattaforma in legno no ci vede ci vede ci vede quando si ferma là sotto e ci vede tu peta no merda un momento no porca troia me l'ho detto e mi sono visibili volevi che testa di canna ci ha visti in pieno poi va via no non ci ha visto colpisce va via e si fa danno oh no ah no no andato di là andato di là ok intendi un'imboscata qua che non ti vede eh sì il martello il martello lo vede che si spunta no dopo 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 quando si quando si mette lì seduto io scendo è difficile che si metta lì seduto perché non ha le routine di un bot ma tu non puoi tornare a casa una volta che invadi uno ma che servono quelle petrine che l'ho già vista eh per per che ne so per segnarti la strada che figo tipo eh ci sono in tutti ci sono in tutti dark souls è tu che non lo sai come si chiamava quanto costano che ne so io non so neanche se ne no è impossibile perderci le gatti cioè dark souls è open world è però un open world in corridoi strettissimi cioè ma è ma è ma che sta mi chiamando ma che mica sta facendo scusa sta diventando inquietante la cosa perché c'è la spada che nevica è lo stocco di ghiaccio o come si chiama si si tu metti lo stocco in frigo stocco di ghiaccio con le menti del ghiaccio stessa roba bagni bagni ti ha troppato questo che ci voglia tirare lasciando per terra quella cosa lì come dei topolini si bagni la spada e la spada dell'acqua però hai detto qualcosa ah si si sta tirando ma dai cioè già che sai che siamo qui cioè ma che cazzo sta facendo no dai ti prego posso andare a combatterlo perchè sta ha le convulsioni della noia no vera vabbè dai provaci se pensi di riuscirci da qui ma fagli un colpo critico quando meno se aspetta ah ok con col martello si col martello di smog non puoi usarti due mani almeno si si dice non puoi usarlo a meno che non lo usi due mani ah ok quindi puoi usare tutto due mani anche se sei anche se hai la forza di una merda tu sei magrissimo ma se le tieni le mani non riesce a soffermare comunque esatto andiamoci prestiamo da smog no no ci si mette troppo no 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 proprio non camminiamo nemmeno aspetta quando fa l'animazione di quando eh vabbè ma ci sta tirando ma se non sa neanche dove siamo scusa eh appunto non lo so ma io lo sa lui non sa dove siamo ma sa che non lo guardiamo come ti è inquietante scusa errore mio adesso mi rametto giù ne ho voluto tenere il martello portatama è bravo bravo si infatti te lo volevo dire io bravissimo mi riesce ad alzare a visuale a vedere dov'è più o meno che magari è girato di spalle è dentro all'obbedisco là è dentro là no è qua no 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 cazzo evocato io ragazzi sto cominciando a seguirmi e lo dico per intertenermi un webcomic chiamato prequel mi sembra che bel nome che è tipo ambientato nell'universo di oblivion e la parte che più mi è piaciuta è in inglese perciò se lo sapete bene altrimenti no no le pietre primatiche dell'altro ho visto cosa ha fatto ah l'acrime dei rifiuti come si chiama che tipo anche se ti fanno un colpo mortale non muori ma rimani con una merda di vita perché si aspetta possibile trollate come noi le proviamo a fare esatto quindi non muore peccato senti di drago c'è ancora? si aspetta probabile si ma poi è che è un dildo nero quindi che è un dildo di drago è posso andare a cercarlo fai no ma fagli un'imboscata tipo sponato una roba enorme in mano va avanti così quando quando vedi che sei ok va veloce va veloce eh c'è in inglese del microfono no 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 è venuto come ha fatto a non prenderlo? ma che no scappa no ah perché è una mano ecco perché fa così cagare io ho visto che l'hai schiacciato eh vabbè ma sono giocato la foto di qui oh l'hai messo bravo ma guarda che spare pugni spare pugnalini come se fosse Naruto mi sento smog non so perché questo è un pirata infatti è madonna mia però guarda che sfiga perché c'era le lacrime fottute eh sì non si chiamano lacrime fottute si chiamano lacrime del rifiuto però io ahah scappa scappa e ti parla che salta non si chiamano lacrime fottute ma non si chiamano lacrime fottute eh vabbè ma lui è ambiguo guarda sicuro che c'è l'estus che reggiano la magia eh non è che sennò non è come negli altri che tu te ne vai affanculo così ma vabbè ma dai ma l'avevo preso sei volte state laggando il giocale come fuori dico mese dico mese dico mese oh che culo no 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 devo sei fottuto no sopra lì fallo per me fallo per il tuo mistero aspetta aspetta è difficile combattere con un martello eh eh vabbè però hai visto quanti anni li ho fatto eh sì schiva ma com'è che mi ha preso lo stesso non ti ha preso il sanguinamento viene fuori da così ma perché non l'ho sciolto guarda che cazzo vai ma hai visto bene che l'avevo preso sei volte non lo so lo sanno tutti ormai sanno anche il nome invece lo sanno tutti ormai che in casa di Cristo non c'è tanto l'ho preso bravissimo smog schiaccio la vita e con queste ottime prestazioni di Cristo mi sono stancato mi sono stancato di giocare ci si vede al prossimo video ciao a tutti mi sono stancato di giocare